benvenuti a 10 minuti composti questa diretta splendida che oggi mi vede veramente entusiasta perché ho con me due ospiti internazionali e dico internazionali perché Gigi Lesothrad fashion food wine founder è un premio oscar ha una fama realmente internazionale e donaldi rapper internazionale che sicuramente tutti conoscete e siamo qui in questa diretta come ripeto veramente speciale per raccontare di uno dell'ultimo progetto la novità che Gigi Lesothrad ha creato insieme con Massimo Bianco che è appunto fashion food wine eh sì grazie Ivana grazie al tuo pubblico che ci sta seguendo in diretta quest'oggi siamo qui appunto per parlare di questo grande evento della fashion food wine e di questo casting internazionale per The Look of the Year The Look of the Year è un evento che ci ci porta veramente a far sognare tutte quelle persone che hanno voglia di realizzare un sogno e fashion food wine ha proprio questo obiettivo realizzare i sogni un po' quello che io ho vissuto negli anni ho veramente potuto realizzare quelli che erano i miei desideri e adesso tocca anche agli altri poterlo fare quindi dare un'opportunità con fashion food wine e in questo caso The Look of the Year a Miami facciamo volare tutte quelle persone che hanno voglia di così coronare quelli che sono i desideri esatto tirare fuori dal cassetto infatti se mi hai tolto le parole di bocca i sogni vanno realizzati non tenuti nel cassetto e io amo aprire il cassetto e far volare e far sognare le persone c'è da dire che tu già giovanissimo sei riuscito a iniziare a realizzare i tuoi desideri uno dei quali ci tengo a sottolinearlo è quello di ricevere un premio oscar a hollywood davvero molto giovane e da lì in poi hai fatto realmente di tutto di più avrete modo di andare magari a visionarlo se voi digitate gg les autres vedrete che è un curatore d'immagine è uno showman anche diciamo un conduttore ne fai di ogni e quest'ultima avventura veramente ti vede entusiasta infatti sono molto emozionato tanto quanto il nostro il mio socio massimo bianco che veramente oggi sta vivendo anche lui il suo sogno infatti è lì che sta riprendendo infatti lo inviterei a godersi la puntata e usare la sua di telecamera e godersi la puntata e perché si godrà meglio la la realizzazione di questo sogno così bello come fashion food wine e the look of the year a miami esatto voi tra l'altro comunque realizzate anche tante altre cose come fashion food wine per cui è importante dal mio punto di vista che voi li possiate conoscere attraverso il sito infatti perché è esatto avete veramente è la vetrina no si è quella importante che appunto lo menziono www.fashion food wine punto co è un sito nuovo proprio nato da pochissimo e dove però ha già avuto grandi successi solo andrete a visitare potete vedere un po già anche quello che è fashion food wine ha realizzato in un semplice mese è perché veramente in un mese abbiamo una rassegna stampa straordinaria vivile si incredibile infatti anche per questo perdonami se ti interrompo che io sono particolarmente orgogliosa di avervi qui con me perché avete già veramente spopolato con i media ad altissimi livelli quindi grazie grazie a te infatti ti dico forse sarà anche perché come potete vedere abbiamo degli ospiti molto importanti nella vetrina di fashion food wine e the look of the year a miami abbiamo con noi l'ospite donaldi un cantante rapper di fama internazionale dove ci farà veramente assaggiare come si può dire no certo visto che abbiamo il fashion food wine ci farà veramente ascoltare quella che è la sua musica che ha fatto nel tempo ma ci sono nuovi progetti nuovi progetti abbiamo già ascoltato qualche suo brano inedito e che se vogliamo lo lascio a te dire no e si potranno comunque già ascoltare si va beh non mi tengo un cecio in bocca e con entusiasmo vi dico che stasera avremo una diretta su radio a sognare si può in cui potremo ascoltare anche qualche pezzo di questi brani veramente molto bene sono molto questa mattina questa mattina eravamo al bar appunto abbiamo fatto ascoltare un po qualcosa di donaldi abbiamo veramente potuto aglietare la nostra colazione infatti è stato meraviglioso a proposito di donald provo a chiederti a fare una domanda donald nel mio inglese un po maccheronico e volevo chiedere sorride perché un pochino lo capisce l'italiano ovviamente volevo chiedere what do you think about this new experience with the fashion food wine yes i'm very excited to be working in collaboration with the fashion and food wine you know when i was thinking people in the world loves fashion they love food and they love wine vino rosa so i was very excited and to have this opportunity to work with fashion food wine along with the look of the year to bring my talent as a performer and dj to make the people dance smile and have fun and i was excited also because i saw how the fashion and hip-hop has come together when i saw jay-z and kanye west perform at the victoria's secret fashion show show so i would like to do the same opportunities with fashion for wine and have fun and enjoy life and spettacolo guarda infatti quello che dal direttore artistico di the look of the year miami e per quanto riguarda the look of the year fashion food wine quello che gli ho chiesto a donald d è quello proprio di ispirarsi un po a quello che era victoria's secret e avere lui che canta in diretta mentre ci sono queste modelle bellissime che sfilano per diana dieppa e la lulla vivenzi ovviamente è un sogno che anche per me si realizza e lui ha subito accettato questa mia proposta perché si è sentito parte integrante non solo come cantante ma proprio anche come showman come lo è perché noi lo vediamo lì tranquillo beato ma voi dovete vederlo in scena è un animale da palcoscenico infatti faccio i miei complimenti thank you very much senti il nostro tempo vola noi abbiamo questa diretta breve per me perché starei veramente tanto tanto tempo a parlare con voi ma vorrei ancora chiedere questa storia del reality noi ci piace è un po quello che piace a tutti perché fashion food wine non è solamente una società di eventi ma fashion food wine anche il suo canale televisivo che è fashion food wine channel qui non solo in collaborazione con tante altre televisioni e chissà mai magari un giorno si potrà vedere anche qualcosa si parlerà di un reality tv dove metteremo a confronto tutti gli stilisti i partecipanti della parrucchiera alla cantante e per vedere appunto il confronto il confronto e con questa ultima chicca vi salutiamo ringraziamo i nostri ospiti internazionale e speriamo di vederci prestissimo seguite il loro sito donaldi gg j sotr fashion food wine grazie